Sarà come sempre un successo. Il prossimo 31 agosto il Capodanno Alessandrino 2024, geniale idea partorita a suo tempo dalle vulcaniche menti dei ristoratori Monica Muccagatta e Marco Beria, avrà come tema i bambini. E saranno proprio i più piccoli ad occuparsi del disegno che caratterizzerà il ventennale di questa manifestazione, che in occasione dell'edizione Zero, per originalità e spirito, era rimbalzata agli onori della cronaca nazionale. Questa mattina, l'improvvisata nell'ufficio del sindaco di Alessandria, qui è stato consegnato il grembiule del Capodanno da parte della stessa Monica Muccagatta e di Renato Vacotti, storico grafico dell'iniziativa, che vuole celebrare l'inizio di un nuovo anno, sì, ma dal 1 settembre, con la ripresa lavorativa, scolastica e sociale di gran parte della comunità. Quest'anno il tema è il futuro, ovvero dedicato ai bambini, bambine, bambini, tutti! Coloreremo la città di tanti bambini, faccio un appello, venite numerosi il 31 agosto in Alessandria, a tutti i bimbi, la mamma, le nonne, quanti altri, possono portare dei bimbi meravigliosi che così ci sarà una città sorridente e colorata.